il signore vi dia pace siamo ancora a san damiano nel chiostro e facciamo un quarto passo verso il nostro tempo con il papa francesco alla porzuncola e questo passo lo possiamo intitolare così quando il lebroso è difficile o impossibile nelle fonti francescane al 1857 nello specifico nei fioretti si racconta di un lebroso impossibile arrogante violento scontroso scorbutico addirittura bestemmiatore i frati per santa pazienza si occupano di lui ma certamente attraverso il linguaggio non verbale che noi sempre usiamo il povero si rende conto che loro mal sopportano questo servizio alla sua persona lo fanno ma lo fanno affaticati così un giorno ne parlano con francesco e lui stesso vuole incontrare questo povero questo lebroso subito il lebroso attacca francesco e tra le altre cose gli dice non sono io non sono solo io afflitto dall'infermità ma peggio mi fanno sentire i frati che tu mi desti perché mi servissero e non mi servono come debbono francesco dopo aver pregato decide lui stesso di occuparsi di questo povero di questo lebroso difficile e gli dirà dopo la preghiera chiedimi quello che vuoi e io lo faccio dice allora è il lebroso è qualcosa di molto forte dice io voglio che tu mi lavi tutto perché talmente puzzo così fortemente puzzo che io stesso non posso sopportarmi e così francesco fa dopo aver fatto riscaldare l'acqua gli aggiunge delle erbe aromatiche dei profumi se ne occupa personalmente con cura premura l'attenzione mirabilmente raccontano i fioretti la pelle lavata man mano che passava la mano di francesco guariva e mentre veniva sanato l'esterno l'anima si riconciliava cosa significa tutto questo per noi francesco prova misericordia dentro di sé rispetto a questo fratello lebroso e dentro di lui le viscere di misericordia si muovono perché perché francesco è stato capace di ascoltare la situazione drammatica dentro la quale questo fratello viveva si lascia sfogare lo lascia sfogare nella sua rabbia e ben sapendo che la grossolanità delle sue parole dei suoi gesti veniva dalla sofferenza fisica e psichica sente compassione e non lo giudica non lo giudica ma cerca di comprendere come se tutto questo fosse sulla sua pelle ricordo in un episodio personale mentre ero un giovane frate con donoreste benzi una sera eravamo su una strada dove era molto forte la prostituzione e dentro di me c'era rabbia nel vedere tutto quello e donoreste guardandomi negli occhi mi disse francesco ricordati non esistono lupi cattivi esistono solo lupi infelici allora noi possiamo avere tanti doni nella vita possiamo avere tante qualità ma non avere l'amore puoi fare un sacco di cose belle solo per estetica ma l'amore ha come fine l'altro dice paolo nella prima lettera ai corinzi al capitolo 13 senza l'amore non siamo nulla è questa la questione seria è l'amore che dà l'essere è l'amore che serve i tuoi frati di celebrosa francesco non mi servono come debbono un povero si accorge subito da come ti muovi mi disse un giorno un giovane che fa servizio alla caritas una famiglia a cui portavo tutti i venerdì il pacco viveri era sempre fredda distante mi dice marco irraggiungibile un giorno decisi di fare un gesto fuori schema e quel venerdì invece di portargli un pacco gli portai un mazzo di fiori la risposta di quella famiglia è finalmente ci hai visti interessante amare come cristo ama è il primo dono che il povero si aspetta da noi e non è il piatto di minestra si aspetta un'amicizia un'accoglienza un'attenzione allora esistono due modi di conoscere nella vita quello che nasce dai fatti e quello che nasce dall'amore quello che nasce dai fatti prima conosco e poi amo eventualmente quello che nasce dall'amore prima si ama e poi conosci quest'ultima quest'ultimo modo di amare la conoscenza che nasce dall'amore è proprio da dio noi spesso le cose prima le vogliamo capire e poi eventualmente amare ma come facciamo a capire la povertà dall'alto della nostra superbia invece i poveri prima li ami e poi li comprendi un ultimo accenno riguarda una distinzione che credo sia importante rispetto a questo passo del lebroso difficile o impossibile ed è la distinzione che a me piace sempre fare tra l'impegnarsi e il compromettersi noi ci si impegna in tante cose anche dentro nella dinamica del servizio del volontariato ci si impegna vengono attivate responsabilità capacità ruoli si acquisiscono abilità nell'impegno si attivano l'intelletto e la volontà ma è altra cosa compromettersi passare dall'impegnarsi al compromettersi ci vuole l'attivazione dell'affettività ci vuole l'affettivi ci vuole l'attivazione della misericordia e allora si arriva al grado più alto dell'incontro a noi francescani che siamo custodi di una memoria viva del carisma il nostro ministro generale pochi giorni fa dopo l'annuncio di papa francesco e della sua venuta alla porzuncola ha scritto una lettera ha indirizzato a noi una lettera chiedendoci un tempo e un gesto nel quale comprometterci con i poveri perché la brace dentro di noi continui ad ardere Grazie a tutti